L'amministrazione Masci fa il punto sulla sicurezza delle strade di Pescara a seguito dell'introduzione dei semafori T-RED, una scelta che, nonostante le polemiche dell'opposizione, secondo il giudizio del sindaco Carlo Masci, ha portato ad una mobilità più consapevole con una riduzione notevole degli incidenti stradali e una riduzione del tasso di mortalità. Su 22.720.147 transiti stimati, inoltre, solo lo 0,24% degli automobilisti è in corso in sanzionamenti. Il quadro è assolutamente rassicurante, anzi è un quadro positivo al massimo, perché abbiamo verificato che a Pescara gli incidenti in questi anni sono diminuiti, e non lo dice il Comune di Pescara, ma lo dicono i dati Istat, e soprattutto il Comune di Pescara è in controtendenza rispetto alle altre realtà abruzzesi che hanno molto meno traffico di Pescara, perché sappiamo che Pescara è la città più frequentata da Abruzzo e soprattutto la più trafficata da Abruzzo, però qui gli incidenti mortali negli ultimi due anni sono diminuiti ed è un dato importante, sono diminuiti perché evidentemente abbiamo attuato delle politiche di mobilità che portano le persone a essere più attente alla strada, questo vuol dire meno incidenti, assicurazioni meno care, meno danni alle persone, alle cose, perché poi il dato reale è questo. Sui T-RED il dato numerico è che nelle vie dove abbiamo installato il T-RED sono transitate in due anni 22 milioni e mezzo di macchine, 22 milioni e mezzo di macchine e 50 mila macchine sono state contravvenzionate, quindi vuol dire lo 0,24%, il 99,76% di macchine che sono passate sotto il T-RED hanno rispettato il traffico e le prescrizioni di traffico e invece soltanto lo 0,24% non rispettando ha preso la contravvenzione. La metà di quello 0,24% ha preso la contravvenzione perché è passata con il rosso, l'altra metà ha preso la contravvenzione perché ha cambiato corsia, quindi parliamo di numeri assolutamente esigui rispetto al traffico che è stato generato dalla città di Pescara in quelle aree dove abbiamo installato il T-RED. Ma questo ha comportato più sicurezza nella strada perché oggi a Pescara succedono meno incidenti, siamo in controtendenza totale. Questo è il dato della risposta a chi diceva che il Comune di Pescara aveva messo il T-RED per fare cassa. Non è assolutamente vero perché i numeri dicono che il T-RED fanno pochissime contravvenzioni, però la sicurezza è aumentata, gli incidenti sono diminuiti e soprattutto i morti si stanno azzerando. E' un dato molto importante, abbiamo una verifica su un T-RED di via Salarecchia dove gli incidenti si sono dimezzati da quando abbiamo installato il T-RED. Questo era quello che volevamo e questo abbiamo ottenuto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti